bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono brutal e oggi siamo su clash of clans signori oggi siamo in un video dove vi mostrerò la differenza tra farmare tranquillamente quando non si sta registrando e farmare durante una registrazione dunque adesso è pomeriggio stavo farmando nonostante che il pomeriggio assolutamente non è un buon momento per farmare ed è venuto fuori cioè sta venendo fuori comunque dei begli attacchi non c'è niente da dire niente di esageratamente buono ma neanche niente di esageratamente schifoso signori adesso vi porto alla vostra gentile attenzione l'ultimo attacco che ho fatto una ventina di minuti fa a tempo che poi mi si rifacessero le truppe per registrare allora guardate un po che cosa succede quando io non registro stano e naturalmente non ci sono truppe del clan mentre quando registro ovviamente c'è dentro un pecc al 5 come minimo perché se no noi non ci divertiamo comunque la strategia è sempre la medesima lancio gugi partendo dal basso lancio tutti i giganti insieme dopo aver dopo aver accurato ovviamente che non ci siano truppe del clan perché se ci fosse un drago sarebbe il devasto più totale per i giganti lancio un assalto per mandare dentro i giganti per andare a togliere l'altra difesa aerea che dà veramente tantissimo fastidio ai curatori purtroppo mi scappa dentro il drago che il clan mi ha donato anziché lanciare il domatore il domatore lo lancio subito dopo dopo essermi accorto dell'errore però vabbè comunque c'erano tantissime risorse anche se è finito dentro un drago diciamo che pazienza non è grave come come cosa comunque continua a pulire l'esterno come vedete mettendo gli archi pochi alla volta non metteteli mai tutti insieme perché se li mettete tutti in un punto e arriva un colpo di mortaio l'attacco è finito signori soltanto con i giganti ovviamente non potete fare nulla come non potete fare nulla soltanto con gli arcieri senza i giganti che gli parano il culo a questo punto metto un gruppo di arcieri indietro dove è già tutto pulito che vanno a spaccare il muro ed entrano perfettamente nel reparto del municipio per andare a prendersi i due depositi di oro il castello del clan il municipio i due depositi di elisir e il deposito di elisir nero anche sperando che la connessione non si interrompa proprio adesso mentre sto registrando ok grazie connessione intanto il drago si è fatto tutto il giro esterno e ha ripulito oltre che adesso sta anche ammazzando il re per farmi sopravvivere più arcieri possibile gli arcieri intanto all'interno si stanno prendendo un mare di risorse senza nessun problema perché non ci sono più né difese né trappole dato che sono passati proprio lì in mezzo i giganti e a questo punto il drago dà un'ultima mano agli arcieri va a fare la torre del mago che è l'ultima difesa che è rimasta su a questo punto io ve lo velocizzo per due e gli arcieri si vanno a prendere tranquillamente l'ultimo deposito signori questi sono gli attacchi che escono quando non si sta registrando quando si sta registrando c'è un po più di pressione e tutto e diventa veramente diventa più difficile questo come avete visto non ho i reali e mancano poche ore al re e una giornata più o meno alla regina dopodiché avremo di nuovo i reali e vediamo se riusciamo a farmare bene anche con attacchi in live dunque ora io vorrei portarvi un attacco in live ci proviamo direi di partire subito e cerchiamo un avversario poi faremo due muretti insieme signori io direi che ci siamo abbiamo trovato un th 10 prematurissimo ovviamente ho dovuto schippare un bel 50.000 prima di trovare qualcosa di decente perché a pomeriggio è normale ha veramente tanto nero sinceramente a quello che vorrei puntare cerchiamo di andarcelo a prendere perfetto i giganti già si sono divisi grande mezzo ok cerchiamo di andarci a prendere il nero direi di mettere subito i curatori visto che le aeree sono veramente basse signore il mio consiglio per tutti tutto quello che vi dà clash è indispensabile uppatelo sempre al massimo prima di passare con il municipio intanto siamo riusciti anche a stanare due bombe giganti che è una buona cosa a questo punto io butterei dentro un po di arcieri e cerchiamo di andarci a prendere quel deposito e poi se magari ci buttassero giù anche quella difesa aerea mandiamo i due domatori che ci teniamo solitamente per stanare ok in teoria dovremmo riuscire a prenderlo quel quel deposito di nero ci siamo quasi perfetto gli arcieri sono sul deposito del nero non è vero perché sono andati a bersagliare il re grande mezzo perfetto ottimo arcieri ok il re è morto dovrebbero riprendere il farm ok perfetto stanno bersagliando ora il deposito di nero visto che ci siamo lancerai una cura sui giganti e mi andrei a prendere anche questi depositini che ci sono qua gli arcieri ci bastano tranquillamente quindi visto che ce n'è l'occasione andrei a prendermi anche qua un po di elisir vediamo un po se riusciamo addirittura a prendere anche l'altro deposito di elisir quello dove stanno per andare ora i giganti penso di sia adesso appena la tesla comincerà a sparare i giganti manderò gli arcieri ecco qua buttate giù quella maledetta tesla perfetto dovremmo prendere anche quello senza troppe difficoltà ok bene 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 l'attacco sta andando meglio del previsto non me lo sarei neanche aspettato perfetto continuiamo così gli arcieri sono riusciti a prendere anche l'altro deposito adesso si stanno mettendo a spaccare il muro ma adesso i giganti moriranno senza pietà e quindi non c'è altro altro scampo per questo attacco direi di sprecare gli ultimi arcieri qui in basso se riusciamo a prendere ancora qualche goccia di elisir anche se la vedo difficile sia per il mortaio sia perché c'è lì vicino la regina che se soltanto da un colpo ai nostri arcieri tutti andranno su di lei quindi adesso vediamo un po che cosa riusciamo a combinare appena va giù questa maledetta caserma dai che mancano 30 secondi io comincio a lanciare gli arcieri un po sparsi magari per non farli colpire tutti insieme dal mortaio anche la bomba gigante perfetto spostatevi maledetti arcieri niente dai ci siamo andati a prendere comunque un'altra un altro estrattore e abbiamo fatto un 59 per cento non male non male abbiamo lasciato purtroppo 985 di nero che sono rimaste in questa trivella pazienza dai comunque non è andato male come attacco 320 mila di elisir e 1470 di nero perfetto ora andiamo nel nostro villaggio di modifica e andiamo a fare due muretti a livello 10 io mi sbaglio sempre ogni santa volta devo impostarlo come attivo perfetto ci siamo andiamo e andiamo a completare un'altra linea facciamo un muretto con l'oro e un altro muretto con l'elisir perfetto abbiamo speso le risorse in questo modo ci attaccheranno anche meno visto che il nero comincia ad essere consistente e da quando hanno abbassato i tempi di preparazione delle truppe mi attaccano anche quando sono sotto ai 100 mila di nero quindi tanto vale spendere più risorse possibile vi faccio vedere inoltre a quanti muretti siamo arrivati siamo a 198 mura di livello 10 ne mancano soltanto 52 e nel prossimo episodio raggiungeremo sicuramente le 200 mura di livello 10 sinceramente signori quando le ho cominciate non pensavo che ce l'avrei fatta o perlomeno non pensavo che ce l'avrei fatta con questa velocità perché alla fine non ci sto mettendo nemmeno troppi mesi se non mi sbaglio sono quattro mesi e mezzo che ci sono dietro e sono quasi finite e oltretutto mi mancano ancora da finire i reali quindi ho tutto il tempo di questo mondo per finirle con calma signori io spero che il video vi sia piaciuto io vi saluto e vi ringrazio se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e un commento qui da brutale tutto bella raga